Qualche settimana fa eravamo abbastanza giù perché poi sono situazioni che i ragazzi vivono emotivamente in un certo modo, non sono situazioni facili. Adesso c'è un bellissimo clima, non vediamo l'ora di ricominciare, lo faremo mercoledì a Taranto. Altro rinvio, altro slittamento nella data del rientro. Il Nardò non sarà in campo domenica 11 aprile a Gravina nel turno numero 25 del gruppo H di Serie D. Quarto rinvio consecutivo per il team Salentino, complice alla positività di tre calciatori juniors al Covid-19. Stanno benissimo, insomma al prossimo tampone sicuramente dovrebbero essere negativizzati, se non sicuramente comunque molto probabilmente dovrebbero essere negativizzati. Le lancette del calendario nel girone H di Serie D si sono fermate per i Nertini al 7 marzo. K.O. per 2 a 1 sul campo della Puteolana e stoppa al cammino in campionato. Ritorneremo in campo dopo praticamente 37-38 giorni da quella in fausta trasferta di Pozzuoli che ha interrotto un po' quella bellissima serie di quattro vittorie consecutive che a un certo punto ci aveva portato addirittura al primo posto, sia pure insomma in una classifica molto condizionata dai recuperi. La classifica dice però che la squadra allenata da Ciro Danucci è ancora nella parte sinistra, nonostante tre turni da recuperare, saranno quattro da domenica prossima e con delle ambizioni ancora intatte. Parola del presidente Donadei. Siamo ancora lì perché insomma vincendo le gare che dovremo recuperare effettivamente insomma resteremmo belli alti in classifica. Quindi è una cosa a cui teniamo tanto, abbiamo la consapevolezza di poter rimanere nelle zone alte. Ai ragazzi abbiamo detto in queste settimane che bisogna sicuramente alzare la sticella perché abbiamo dimostrato in tutto il campionato fatto finora che ce la possiamo giocare con chiunque. Quindi siamo belli carichi, consapevoli e fiduciosi. L'auspicio è di non vivere altri stop dopo il 14 aprile, data del ritorno in campo a Taranto. Quattro giorni dopo sarà tempo di ospitare il Portici in casa, poi il Nardò potrebbe essere chiamato a un mini tour de force per recuperare nell'interruzione del campionato prevista dal 25 aprile in poi le partite rinviate. Io credo che la cosa migliore da fare sia giocare partita dopo partita e affrontare ogni partita al massimo delle proprie possibilità tecnico-tattiche, fisico-agonistiche, caratteriali e morali. Quindi credo che la cosa migliore da fare sia questa. e ripeto, noi avremo un rientro insomma bello tosto, ma di quelli che a noi piacciono molto, ai ragazzi piacciono molto, insomma in casa del Taranto.